Mirko, perché tu venite a fare il live? No, no, fa più bene, però, ma è prima. Lui è esperto. C'è da caricare, Massimo. Se abbandoni Massimo, lo sai che tu gli svieni. Ma qui la live è attiva? È attiva? Certo. Ah, si può interagire? Certo. Bene. Qualcuno risponde. Buon pomeriggio a tutti. Come vedete stiamo lavorando. Sì, stai lavorando proprio tanto. Vedi, stiamo lavorando. Siamo sempre attivi. Io pure. Siamo sempre attivi. Il nostro carissimo amico si è messo... Sono tornato. Non si è messo niente. È venuto qui a fare la visita, si teglia i tuoi capelli. Non si è messo niente. Sono i miei. Pagati sono tua, come dice quello. Roba, roba mia. Salutiamo tutti i refalti estetiche. Parrucchierre. Ora avremo in fase... Che sono in piena di lavoro. Ora sono i cinque. Ora sono i cinque. Sono in piena fase lavorativa le nostre amiche. È l'ora di punta. È l'ora di punta, eh? L'ora del tè. È l'ora del tè, eh, ragazzi. È l'ora del tè. Ora vediamo chi si affaccia. Valerio vuole sapere se questi capelli bianchi sono tua... Vedi? Oppure... Dicci. Io ci vedo qualcosa di strano. Vieni qui dall'alto. Guarda. Vediamo. Guarda un po' dall'alto. Fai vedere. Controllare, controllare. Eh? Hai visto? Non sembra, ma purtroppo... Purtroppo non gli appartengono. Gli sono stati donati. Diciamo così. Vero? Se no non era qui a sedere. Se no non era qui a sedere. A questa era qui era, guarda, era a casa sua, sul divano. E non ci pensava a tutte ciò che capelli. Solo sulle fasce e un po' di dietro, diciamo, sono i miei. Anzi, ora una tagliatina magari... Sono belli, eh? Perché sono belli perché sono naturali. Bel colore. Sono belli perché sono naturali. Faglielo te, taglio, Mirko. Sono belli perché sono naturali. E stavo facendo questa... Direi, vogliamo sapere se erano... I miei o... Se erano i miei o... No, gli hanno fatto due colori diversi perché sono... Si sono divertiti. Dice, non sembra, infatti è assurdo. Vero? Allora... E questo è il bello. Questo è il peggior frontale del mondo. Ma cosa? Allora, se c'è il grande Mirko, buonasera a tutti, ragazzi. Ero di là perché c'è la fila fuori per fare... È come le schiacciatine. No. È come le schiacciatine di poi. E c'è il biglietto. Per il GEO, ragazzi. Buonasera a tutti gli amici di Facebook. Buonasera a tutti gli amici di Instagram. Ciao al grande Mirko, ma soprattutto al mitico Frank De Doc. Capito? L'uomo, la leggenda, che sta instigando da vicino Io sono il grande Mirko. L'ultimo live ha fatto 32 mila like. Davvero? In un po' più di 20 giorni. Ragazzi, secondo voi, diteci, se questi sono capelli rimessi... Vero? Digli che vengano. Venite, venite. No, no, digli che vengano. Cioè, lo vedete la differenza? È inutile stare a raccontare le storie. Mettete il mastice. Perché la cosa dovevi mettere il mastice ora. Però non si è fatta la differenza. Almeno vedete. No, almeno questi sono due colori diversi. No? Per far vedere se credete. Se no, non siamo credibili. Se no, non siamo credibili. Non siamo credibili. Non siamo credibili. Valerio dice, anch'io ho una protesi già da sei anni. Ciao, Valerio. Che protesi hai? La porti con la colla normale? Ma un risultato così lo puoi ottenere? Ora poi, questa è una cosa incredibile. Ora, noi bianchi, è come sparare sulla cruce rossa. Perché se no, è bianco. Bianco, bianco. Va bene, no? Ma che guai, è come Real Madrid, vince a mani basse. Viste anche quest'anno vince a mani basse. La tecnologia di Ionitz o la membrana del GECO, lo vedete poi... No, stai dell'altro a mettiti la colla, eh. Mi raccomando, sei anni, stai dell'altro. Ti do il premio io. Ti fa l'altro anno, sette anni, ti do il soldio. Ora, quest'anno... No, Valerio. Ti do il soldio. Un altro anno ti do il soldio. Ma posso tirare? Per me sì. Sì, ti do il premio. Ragazzi, no. Non vorrei come conduttori televisivi che tu... Non facciamo come conduttori televisivi. Non dico nomi. Non dico nomi. Non facciamo nomi. Un milco polemico. Non facciamo... E non è un conduttore televisivo, ecco. Volevo dire questo, no? Non tiriamo. Frank De Doc, eccolo. Potrebbe fare il bagnino, potrebbe fare il secondo... No, ma 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 la trazione del Gio fino a 85 kg. Ormai è questo. E se no è come sparare sulla croce rossa. Allora, ci saluta MM Parrucchiere, che è la moglie di quel ragazzo amico di Giovanni C. Ti ricordi? Ciao, cara, come stai? Mitica, mitica. Come stai? Valerio vuole sapere se questa propria ti è attaccata con la colla. Eh, Valerio, vieni qua. Valerio, ti pago io il viaggio, vieni qua. Te lo pago io il viaggio. Valerio, ciao, da dove ci chiami? Ah, qua. Ma lui ci seguiva un po'. Valerio, sì. Grande, vale. No, qui c'è la membrana del Geko, punto. Invece che le colle tradizionali, c'è questa membrana, che è una membrana brevettata, quindi che ha la capacità di riaderire. No, qui De Doc poi te lo può dire. Cioè, specialmente nell'umidità, a differenza delle colle, che poi ora con il calore, quindi l'intensa attività sportiva, insomma, ora io dico, ma non è il problema, io dico la differenza di tecnologia. Pagagli il creno, Valerio. Dove cacchio è Valerio? Di dove è Valerio? Chi è la Sardegna? Sardegna, pagagli Valerio. Valerio, c'è Firenze. Vieni Valerio, vieni Valerio. Firenze, ti do la carta, vieni qua. Se hai problemi di adesione, non so, la Sardegna è bellissima, intanto la Sardegna è meravigliosa isola, eh? Io sono venuto dal Veneci. C'è anche il nostro secco. Valerio dice, io non uso colla. Eh? Non uso colla? Meno male. Meno male? Che colla usi Valerio? Meno male, Valerio. Ma sei il nostro cliente? Meno male, Valerio. M.M. Parrucchiere dice, ragazzi, è stupenda, mio merito è rinato, un'altra persona. Grande, mitica, mitica. Ora dovrebbero tornare la prossima settimana, mi sembra. Si è lanciato con il GECO, eh? Si è lanciato. Guarda, il grande Mirko Parrucchiere. No, straordinario. Allora, ragazzi, questa è la tecnologia del GECO. Allora, Valerio, ti dicevo che usi i biadesivi normali, ok? Meglio della colla di sicuro. Certo. Allora, cosa hai in più con la membrana del GECO? Una membrana che si adatta alla pelle legandosi all'acqua, al calore, al sudore e quindi aumenta esponenzialmente la sua intensità di ancoraggio quando è in presenza di umidità. invitare la legge, va bene, a differenza degli adesivi normali o le colle tradizionali e ha questa capacità di riaderire decine e decine e decine e decine di volte se la puoi togliere e rimettere in diretta. che ti puoi gestire proprio in totale autonomia. A me piace. De Doc, ma te che dici? Te da grande Frank De Doc, cosa dici di questa tecnologia? Io mi sono trovato benissimo, già l'avevo detto. Vedi c'ha questo ciuffo alla Landelon? Davvero. Maggio De Doc è così, è un uomo che ispira fiducia solo. Pariente dietro, devo controllare cosa fa a Lady V, sto dietro perché devo controllare. Perché a Lady V ultimamente... Se l'ha disturbito, ti l'ha tagliata a capire. Cerco di farlo abituare, cerco di farlo abituare. È un volto nuovo, prendi le Doc. Vedi questo ciuffo? Ce l'aveva solo a Lady V. Dietro no, non gli piace tanto. Ha un suo perché, a lui Frank. Allora, Valerio dice che il biadesivo gli dura una settimana e ci saluta Enrico. Dai Valerio, vieni a provarlo Valerio, dai, vieni a provarlo. Ciao Bomber. Ti devi un problema grosso, poi si addegna a fare. Comunque puoi trasformare la protesi che hai Valerio, quindi se fai la prova 30 smart la rendi fluibile la tecnologia 30 Ionics, quindi i capelli si ionizzano, non si annodano più, hai la membrana del GECO che ti permette veramente di togliere e rimetterlo e quindi riutilizzarlo, va bene, nel senso che hai bisogno di cambiare gli adesivi tradizionali e poi ci dici come cambia, come cambia la marcia, no? Quindi, e ti costa 199 euro se porti la tua protesi, quindi la prova 30 smart. C'è un po' bisogno di secondo, me lo riesce, ma non si taglia. Lui? Eccolo! E' lui! L'uomo bianco, lo vedi? In gelatà, come lo vedi? Il bottegaio e il ragazzo di bottega! Guarda lì che capo è ragazzi! La bellezza dei... No, ma il movimento dei capelli ionici, no? Sono questi, perché poi vediamo, le protesi normali si comprano, si guardano, si annodano tutte, capito? Ci dovete... Perché c'è una tecnologia là, quindi... Lo metteremo anche a difunti, no, no, lo metteremo anche a difunti, no business, come? Anche a difunti, ma che scherzi! Poi il problema, ciao amici, grande Fede, occhio, non tirate troppo, altrimenti staccate la testa al doc, un saluto scappo a presto, grande, grande Fede, oh, c'è il numero uno! Chi è Pacini? No, Pacini è... Un pochino è sua! Fede è un uomo leggendario, è uno della nuova resistenza alla libertà, ci seguiamo sul Fede. C'è una settimana, lui... Sta con la testa al doc, eh? No! Ora domenica, manca poco, tagliamo un orecchio! Oh! Ti fai un orecchio al doc? ma ci sento guardi, che vuoi rimandare? Allora... Lui è un uomo bionico! Non ho un posto rimandare, perché chissà poco quando mi riavito! Madonna, Riti! Ciao, mi dico Fede, c'è un numero uno, eh? Saluti al Federico! Oh, il doc, ragazzi, è pronto per spodestare, quindi entrare in... In classifica, in classifica, eh? Prima di tre, nel podio, eh? No, il podio... No, è già nel podio! Il grande Mirko non si senta sicuro, no, no, il doc è già nel podio, ragazzi, io ve lo dico, ma alla grande! Al secondo scalino! Alla grande, no, no, è già nel podio alla grande! Oh, ragazzi, sentito, ti punto al secondo scalino! È un brevetto! È il primo essenzio! Il doc c'ha il brevetto, davvero, ragazzi, nella manutenzione, il doc... Per il percorso che ha fatto, C'è il repentio! Per il percorso che ha fatto, è stato velocissimo a... Ma poi, ma poi, il doc è operativo 24 ore al giorno, Ragazzi, in diretta, pronto? Lui mette in condizione, se avete un problema, a lui c'è lui, vi salva, è vero o no? Sempre! Due margherite, servizio 24 ore, due margherite, due capricciote, poche vorreste, signore? Si fa anche pizzeria, ecco, si fa pizzeria, ceco! Allora, per essere più credibili, una discrepanza di colore ci vuole ogni tanto, eh! Ma poi, asciugandoci, si sta brefando, perché asciugando, si sta brefando, secondo il colore... No, vabbè, col bianco è sparare sulla croce rossa, io... Però, vedi questo orange, orange, questo qui, no, solo del gel, ora... Eh, hai capito, Frank, ha questo suo, capito, aplomb francese, tipo l'anze, all'anze, all'anze, è così, capito, ho anche altri, qualcuno altro, manovere, infatti, si assomiglia un po', c'hai questa, capito, che posso dire, questo... ragazzi, mi tocca farlo, allora, guarda, 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 ragazzi, la di blu è infastidità, c'hai il testosterone alto, madonna, è la stagione, è la stagione, è la stagione, ragazzi, morto da anni, morto da anni, c'hai il testosterone alto, gli dici dopo, che si può fare? Eeeh, buon pelu, le dolce fredde, che deve fare le dolce fredde? Lo sfruttassero, bisogna sfruttare, bisogna sfruttare, il problema è che lo trovi l'altra parte, perché quello è un problema, dottor, è il problema di sfruttare, quindi il problema è l'incontrario, che è, oh, Fenerio Pacini ha detto, il grande Mirko è il doc numero uno, attenzione, perché non ti aspettiamo, oh, vede ognuno, vengo anch'io, vengo anch'io, è letto, il 12 vengo, voglio vederlo, Fede, Fede è play the guitar, voglio vederlo, guarda, è Fede play the guitar, che è play the guitar, il 12 vengo, non ho ufficializzato, Fede, non hanno ancora capito, che sei play the guitar, glielo ho detto io, perché non ti hanno ancora sentito, suonare, l'ho visto su Facebook, hai visto come stream pendant? Sì, sei bravo, sentito il doc che dice, Fede, poi posto dei bei filmatini, vai a comandare, vai a comandare, c'hai la benedizione, del grande Mirko, e del Frank e del Doc, e allora vieni, con cappellosi, se vai dal parrucchiere, te li tagli, è vero? Io sono per, per tenerli, non per tagliarli, no, se ti presentassi, in un salone, fai finta di nulla, fai finta di nulla, perché poi i parrucchieri amano, io me lo voglio mettere bianchi, la prossima volta, si fa tutto il piano, io invece volevo, mettere di un po' di bianchi, io me lo voglio fare bianchi, va la prossima volta, te ti metti suo, e te ti metti su, fra una decina, ventina d'anni, io voglio mettere bianchi, Mirko ci mette quello di Frank, e Frank ci mette quello di Mirko, ti puoi fare il capello bianco, alla Frank del Doc? Davvero? Il Frank del Doc sta lanciando una moda, perché questo, capito? Armani. Questo Armani, questo argento Armani, o bianco Armani, bello, poi li si integra bene, perché gli ha questo, questa plomb, questa adatta, quella di Ava. Che figata signori, eh ragazzi, è l'ormone, ragazzi, stanno bene un po' più bianchi, l'ormone, vero o no? È meglio, ma stanno bianchi anche in baraccattolo. C'è voluto fare il double color, attenzione, per essere incredibile. No, se di Domenica che è libero, può andare, domenica che è libero, magari puoi scrivere, all'io, so dove mandarlo, eh. Dove? Eh no, Domenica che è libero, cari tori, che siete lì nel recinto, se volete, volete, domenica, vi mando in un posto. E c'è il mio. Eh, domenica vi mando in un posto. Oh, il Mugello c'è già stato. Che lo so. Ho capito, mi ha detto il Mugello, non capisco io. Guardate ragazzi, l'eleganza di Frank Dedoc, con il suo Geo Drive internazionale, no? No, così è tipo Alain, Alain Delon, Francia, 89 ragazzi, come si fa, dai. Ma lei rega, davvero, fai rabbia anche ai cosi? A me in te. Ma a te fai rabbia a tutti, no? No, no, tu potresti mettere anche un schiale, però, per capire un attimo. Per capire, puoi operare? Dotto, dai, gli auguri, auguri. Qui allora, qui si romanda, vi saluto tutti. Questo, vi saluto tutti. a me in donne si può andare tranquillamente. Ragazzi, lo vedete? Ti faccio la cosa a me in donne, il dottor può andare tranquillamente a me in donne. Io faccio la richiesta, se la si accompagna, poi ci ammazza. Che vuoi dire, che vuoi dire, a proposito del tuo look, questo, questo look vincente, che ti proietta, nel podo, nel podo, nel podo, ragazzi. Ha visto? Sì, come ci è arrivato, no? Quell'altro, io sono troppo, lui ha zoppato, e mi ha dato lui come il primo, ha visto? Gli auguri dice, se è uguale. Poi posso fare tutto quello nico, spostati qua, spostati qua, ragazzi. E ti hanno detto, appena ti hanno visto, così? Grazie. Sono rimasti, frescianti. Gli avevi detto, eri andati a fare il trappianto? Non vi ho parlato a un morto, trappianto a un morto, gli ha detto, ha fatto un trappianto, gli ho spiegato bene, la situazione, la tecnologia, provate per credere, veramente. Questo che mi ha messo, facciamo tagli, no, il freno che le docche è così, è perfetto, quindi, allora, io direi una cosa, visto che Frank, ora è qui con noi, ci stanno dicendo, acconciatura spaziale, ci stanno dicendo, figa, hai capito? Perché questo colore qui, è un colore che non si può fare, normalmente, se vai dal pato schieno, però non è difficilissimo, vedi, anche il grande vinco, vorrebbe rispondere così, sì. Senti, quindi, che vorresti, che vorresti, facci un saluto, un saluto, Frank, il mitico Frank, è sul pollo, Frank e the Doc, guardate me, venite, e spermentate, io sono rinato, e questa è una plomb, sono rinato, ma dove mi ha detto, una cosa incredibile, come rimetti rimetti, sono fortunato a me, davvero, poi vedi, nelle situazioni più critiche, rimane la plomb, di Frank e the Doc, vedi? Perché non ci si può, ora ricomincio a pubblicare, un po' di video, e certo, l'aspettano, perché poi c'è quelle canzoni, abbinate, che piacciono tanto, che il grande vinco, mette mi piace, vero? Sì, di solito sì, anche Pacini, anche Pacini, capito, perché ancora non ti hanno visto, ancora, non hanno capito, i potenziali, quest'anno, capito? Perché c'è l'ultima, seconda semestre, dell'anno, Frank e the Doc, sta scalando, sta scalando, attenzione, non ti devi, sentire l'ordine, no, io ormai, sono già tramontato, io non faccio tanti like, perché il mio Facebook, è aperto solo agli amici, non al mondo, quindi se siete, vedete, Frank e the Doc, siete fra la scelta, gli amici, sono già tramontato, no, no, sì, lui, è il prototipe, è il prototipe, io sono suo figlio, sì, è un figlio, è un figlio, sentire, Frank e the Doc, ma che è il tuo figlio, è il tuo discepolo, è un discepolo, un discepolo del capello, no, no, il dottore, ragazzi, ma quando sei andato su, perché se sei spesso su, in quelle montagne meravigliose, a Livigno, a Livigno, mi si domanda, domani torna a Livigno, allora ragazzi, se volete vedere, Frank e the Doc, chi è in quelle zone là, vedete questo, mappello scintillante, il geoscentillante, Frank e the Doc, potete andare, ci sono ancora un po' di neve, ma anche la neve non si deposita sui capelli, al dottore, c'è perché ti scivola lateralmente, c'è perché non c'è, un aureola che scivola la neve, impressionante, il geoscentillante, lo annienta, per andare a sciare, l'ho tolto, preciso, ecco, ti voglio di una cosa, hai notato che quando sei su, in altitudine, funzionano meglio ancora? C'è fatto aria, perché il sole è più potente, quindi si ricarica più velocemente, è vero? Ci hai fatto caso? Il sole, l'aria sicuramente, perché lassù sei a mille, quasi nel mille e nove, mille e nove, vai via un filo di gas, capite? te invece sei qua, neanche a duvila, così, duvila tisi, duvila, mentre i capelli del geos, respiro il suo a duvila, il tuo boccheggio, faccio fare i cosi, i cosi cardiaci, la mattina, all'impianto, gli metto le mani sopra, mi fanno attivare, come se ne va, dicevo, quando torno sono al mare, c'è Frank che chiede, ciao ragazzi, ma se decidesti di mettere il geco, quanto mi costa l'anno? Grazie. Chi è Frank? Ciao Frank, mi dico, ma te adesso sei, sei, non hai, non hai nessun tipo di, l'impianto, Frank, l'impianto sarebbe la prima volta? Frank, Francesco. Senti Frank, allora fai la prova a 30, va bene, se fai la prova a 30 sono 580 euro più IVA, poi che ti viene scalata? E se decidi andare avanti, va bene, fai, io secondo me, il piano base short sono 2290 euro, io faccio il polemico Frank, 2290 euro, per il primo anno, meno la prova a 30, e hai veramente qualcosa di straordinario, fa il polemico dai Frank, vai da quelli altri, quindi vai a fare i 12 mesi un'esperienza unica, Frank, vada Frank, io faccio il polemico Frank, lui di fare la ricetta rossa, verde e blu, vero o no? Anche Bianca, devi andare da quegli altri, Frank, vuoi un consiglio da me, vai da quegli altri, fatti fare un preventivo per un anno, fattelo fare, è polemico Frank, però, se parli di colle tradizionali, lascia quello, Frank, Frank, dai, vai là, mettiti la colla Frank, dai. Secondo me, dovresti fare, poi se hai un po' di tempo, manda le tue foto, e poi ti faccio sapere, perché potresti, potresti anche veramente fare un po' di, di prevenzione redox, Mi hanno già inculato, ho scritto, mi hanno già inculato, chi? Per due anni, Frank, 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 da retta, vieni qua, guarda, Frank, ma come, ma tu che usavi la colla? Non c'è il suono, Frank, che è successo? Frank, che non c'è il suono. Ho due protesi ancora. Allora, fai una cosa, trasformale, se ne hai due, trasformale, fai la prova 30 smart, e riutilizzale, e le rendi fruibile, la tecnologia del GECO, 199 euro, più IVA l'una, capito? Utilizzale, prendi contatti, secondo me, devi fare questo, e poi te le fai vedere. Almeno ti rendi conto, ti rendi conto, che intanto recuperi i soldini, la uso tuttora, colla o biadesivo. No, dai. Allora vai, vai, trasforma queste, se sono buone, almeno recuperi un po' di soldi, vai tranquillo, tanto per noi non fa differenza, fai la prova 30 smart, 199 all'anno? No, no, per trasformare la tua, eh, per trasformare una. Una. Frank, c'è breventi qua, Frank, almeno dopo non metti più nel collo e nei biadesivi. Frank, ci sono i brevetti, non sto a sentire i discorsi. Capito? Poi fai il servizio CECO Drive, ne fai le coi bene, dove sei? Fai tutto, tutto, cioè non hai problemi di fare, con il servizio CECO Drive fai la differenza, poi ogni tanto, capito? Chiamo il dedoc, Frank, dice ricetta rossa, bianca. Io vorrei fare il barriere, vorrei fare la barba, con i nostri clienti vorrei iniziare a fare la barba, con la cosa vorrei iniziare a fare la barba. Varese, 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 fai tutto da casa, Frank. Dai, vieni una volta, devo pagare il viaggio, guarda, vado contro la mia osea, tieni qua, ti rendi conto in che mondo sei. Poi non torni più. Davvero, diglielo anche te, dottore, da Varese, vieni. Davvero, io vengo dal Veneto. Padova, Varese, Padova? Varese, Varese, mi stavo risponendo Padova, Padova, Marense, Padova, Varese, c'è l'eco, Varese, Padova, c'è l'eco, Varese, Padova, se ti vengo dal Veneto, vieni, tre ore di macchina. Per apprezzare la videotecnica? No, per beverla più che altro, per capire, perché la gente non se la immagina, la devono vedere. E' meglio di, è meglio di capire i propri. Porche in serio, a molti. Senti, se lo dice Frank, The Doc, chiama a questo numero, Frank, che almeno parli, che appena finito il live, puoi parlare anche con me, o con chi c'è, con Milko, con i ragazzi, con i ragazzi della Via Gluck. Frank, 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 lei va di la colla, Frank, ma in qualche sera. Frank The Doc, Frank The Doc, questa cosa. Allora, allora ragazzi, una cosa, ora ti arriva il calore, cioè l'estate più calda di sempre, come fai con la colla normale, gli adesivi normali? Ci scioglie pure. Male. Io questo ti dico io, capito? Ora arriva il problema, perché poi, in questo tempo, peggiorerà sempre, diventerà tipo caldo saariano. Io ho ieri un cliente, ne arriva tanti, ogni tre giorni, adesso, hanno problemi, ma è normale. Si spolla il frontale, si alzano, è prurito, questo è un problema, è un fattore tecnologia, trasforma la parte. Per fare un bagno, ti tuffi, ti rimani con il tuo. Ci saluta Lelio. Ciao Lelio, mitico, come stai? Guarda c'è Frank The Doc e il grande Milko. Frank dice che già soffre. E allora dai Frank, soffri? Frank, dai, che aspetti? Fai una cosa, lo so che te, allora, i 199 euro migliori che puoi spendere, che abbia mai speso. Capito? se va male, te le ridò io personalmente. No, se va male personalmente te le ridò io e non sono, e non sono dentro la società, te le ridò personalmente. Lui pagarrate, pagarrate Milko però. No, vabbè, te lo prendo io. La debita lo prendo io. Se va male, mi chiamo e mi dice, prestituisce i soldi che siete dei buffoni. Mi fai 100 mila. Capito? Mi devi dire, siete dei buffoni, io te le rendo. Poi, poi, se poi avete bisogno di un consiglio proprio da dottorando, da The Doc, c'è il mitico Frank The Doc. Dottore, no discorsi, dottore vero. Davvero. Dottore vero. Stai soffrendo. Quanto ti dura adesso ora che si sta alzando la temperatura? Ma guarda che adesso non è niente. Ora aspetta 10 giorni, te ogni 4 giorni ti tocca fare la manutenzione. Ci siamo. Capito? Con 35 gradi. Allora, non ti puoi privare da andare, lascia fare i chiedini. Armare, in piscina. I fuffi vendoli. Qualcuno può riuscire a fare qualcosa. Però il 98% noi si usavamo la colla 15 anni fa, la colla tradizionale. Poi l'avevamo leggendo non c'è dopo, si è brevettata nel 2012. I personaggi ogni 3 giorni sono da loro, un dare retta, un dare retto. Ogni 3 giorni, 4 sono da loro, un dare retta i personaggi. Però non paga. vuoi essere umani, vuoi essere umani, ci andate di mezzo, vi staccano la testa perché contratti qualsiasi. No, aspetta, te ti sei dovuto aggiustare da solo perché non puoi andare in una volta alla settimana a spendere 80 euro. Fai il servizio Genodrive e smetti di avere tutte queste spese. Ti godi capelli veramente a 85 milioni. I capelli del popolo sono e siamo anche dall'avverso, posso chiamare davvero capelli del popolo, voi ci scherzi. Se voi ci scherzi con i capelli del popolo. Cioè, doc, più fa caldo più si attacca, più si bagni più si attacca. È più tira. Ora si farà il prossimo live si farà perché è tanto ci farà. È più tira. 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 Allora, no, si farà un live la prossima volta un dedoc e tira Mirko per i capelli che è tanto. Facciamo. Poi dopo gli darà un bruffe per i dolori. Brufe, bruffe. Un bruffe per un bambino di testa così. 600. Brufe. Su 600. Vedi? Che 600? Non lo vai capire. Perché 400 è per i bambini. È per i bambini. 600. Allora, se ti dico la bomba. Qui in diretta. Qui in diretta. Qui in diretta. Qui in diretta. Senti, qui sono le ricette. Sette di porcellana. Sei piatti. Quattro tazzini. Quattro ore. 250 euro. Ragazzi, sono bellissimi. Devi comprare. Si parla. Si mette il telefono. Però anche te quando usavi la folla avevi il problema. Il problema era poco. Cioè, andavo a mare. Facciamo. Io andavo a mare. Frank, telefona che si facciamo questa trasformazione. A meno quest'anno puoi andare nel deserto del Sahara. Capito? Va veramente. Fai una maratona se vuoi. Come? Eh, che dici Doc? Ah, io che dici. Senza blufe. Non ce la fo più ragazzi. Io ce la fo più a sentire la gente che ha la colla. Ci saluta Max. Non ce la fo. Ciao amici. Dico Max. Come lo vedi Frank, le docker? O levatevi l'impianto o mettetevi il gecko. Cioè, due soluzioni nella vostra vita avete. O vi levate l'impianto o ci avete il gecko. Perché la folla basta ragazzi. Non è una soluzione la folla. Vi prego dai. Vi prego dai. No. Oggi è 2023 approssimativa. Dai. Basta. Basta. Vi prego. La folla tradizionale è approssimativa. È approssimativa. È approssimativa. Come? Quando te hai un 42 di scarpe e esci con il 47. Come ti stai camminando? Stiamo ridici. Stupendo. Informazione ridicoli. Siete ridicoli. Allora. Ragazzi. Fai un saluto. Frank. Noi siamo contenti di averte avuto qua. Quando ci saliremo? Non lo so. Prima d'agosto. Prima d'agosto 2025. Prima che ritorna. Agosto prima che ritorna. Allora facciamo un'altra dimostrazione. Eh già. Ci vuole andare in ferro. Facciamo. Va bene. A dimostrare che non si deve. Ma per l'amor di Dio. Queste non sono retine da pesca. Da quello del gecko. Un'altra cosa invece. L'ultima cosa che hai notato. Da Frank the Doctor. Dovessi dare una caratteristica. Ti ha impressionato. Questa. Questa. Anche se. No. Non lo so. Ma guarda. Intanto. Una. Una in più. Partito. Devo dire positivo tutto. Mi ha ridato la faccia che avevo anche qui. Grazie. Non ho avuto problemi particolari. Sensazione com'è? Sensazione. Leggerezza. Come se. Ricordatevi leggerezza. Ricordatevi pesantezza. Quello. Quando c'è. Quando c'è. La colla. Che opprime. Quindi. Oppure il prurito. Il calore. D'estate. Io voglio vedere. Questa estate. C'è 46 gradi. Per tre mesi. Le voglio vedere tutti con l'acciale. No. Sarà un problema. No. Perché prima dieci anni fa. Anche le colle duravano di più. Poi dopo il clima. Anche qua. È cambiato. È cambiato. Certo. Dopo. È chiaro. Anche lì c'è delimito. Una volta a settimana. Ti fai. La tua manutenzione. Da quel punto. Vai con il gecko. Quindi. Vai a fare. Una cosa. Una membrana. Innovativa. Che ormai. Ecco. Potete provarla. Tutti. O soprattutto. Chi ha. Una protesi. Vecchia. Quindi. Con la vecchia. Piccologia. A colla. Tradizionale. O adesivi. Tradizionali. Con soli. 199 euro. Quindi non è da dire oggi. Si va a mangiare. In quattro. Siamo andata alla festa. Via a Montespertoli. La festa del vino. Ah. Se volessi. Se volessi. Dove. Quando. No. Signori. Si spende. Sempre. Anche per mangiare. Vedi. 199 per una prova. 30 smart. Recuperate i soldini. Avete speso. E magari non siete soddisfatti. Invece di. Ripartire da zero. Potete usufruire la tecnologia. La migliotecnologia del mondo. Quella che c'è adesso. A livello di. Eh. Quindi. Di. Applicazione. Sulla cute. Eh. Ok. Quindi. Non trapianti. di niente. La migliotecnologia di sempre. Ok. Ragazzi. Io vi voglio bene. Frank ci fa un saluto. Grazie. Ciao a tutti. Noi andiamo. Ciao a tutti. Non dormite. Basta con la. Non dormite. Vi prego. Non dormite. No ragazzi. Ragazzi. Basta. Basta. Prossima settimana. 36 gradi. Basta. Basta. Prepariamoci. Frank. Io spero. Io non ho più. E tu. Ci ami più serio. Per te eh. Poi. Te l'ho detto. Se poi non va. Sono pronto a rimborsare. Però lui fa garrate. Ok. E' uguale. Ciao Frank. Allora. Salutiamo. Un saluto a Frank The Doc. Ciao. Il nuovo Alan. 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 Alan è nostro. L'italiano. Alan italiano. L'originale. L'originale italiano. Made in Italy. Poi il mitico. Eh. La leggenda. Il grande mito. Made in Italy. Maestro. Il canale con il canale. Che uscirà a breve. Si. Che uscirà a breve. Sul canale Facebook. Con iscrizione. Potete parlare direttamente. Quindi. Accedere a contenuti esclusivi. Va bene. E. Sarà veramente una bella figata. Certo. Informazioni su capelli eh. Per avere. Per apprendere. Proprio. Tutti i segreti. Di quello che poi vi aspetterà. Certo. Nel momento che decidete. Di fare un passo. Di fare un passo. Un paio di domande. Si. Allora. Romualdo vuole sapere se hai visto. l'intervista a Cesare verso tu nonno. Si. 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 E ride. E poi. Esatto. Astra vuole sapere. Ogni quanto va ricaricato il Dzeko. Ok. E ogni quanto. prima voleva sapere che ne pensavo. era. Ah no. Ha solamente scritto se l'avevi visto. Si. spiegando da sempre. Poi. Quando va ricaricata la membrana. ogni quanto va ricaricata. E dopo ogni quanto va tolto e pulito. mediamente. Ascolta. Mediamente. Te vai. Io oggi. Ho tornato un cliente. Si. Ha fatto la ricarica dopo 80 giorni. 90 giorni. Ma dipende. che. Il Dzeko torna dopo due mesi. Io penso. 60 giorni. 70 giorni. Sia nel suo. Depende. La media. Poi io. Ti dico. La ricarica dipende molto. Se hai una pelle glabra. E che tipo di ionizzazione usi. Quindi io ho anche clienti che. Che arrivano a. Tecnicamente. Parli troppo tecnicamente. Poi non capiscano bene. Cioè. Per ogni. Per ogni. Secondo me. Per ogni testa. C'è la sua cilindrata. M'ha trovata. Quali formazioni tecniche. Secondo me. No ma. Dicevo. Dipendeva. Dipendeva molto da. Mi diceva. Se c'ha la pelle glabra. Non so. C'hai una funzionalità. 100. 100. Però. Non è che devi fare la fase igienica. Fai la ricarica. La ricarica. Si si. Lui chiede fare la ricarica. Ok. E la fate direttamente a casa. Certo. Non è che dovete andare. Dentro. A saloni. Lo fate direttamente. Nel bagno. Di casa vostra. Dove. Deve avere attivo. Deve avere attivo. Deve avere attivo. Deve avere attivo. Un piano di garanzia. Per accedere al servizio. Full drive. Full drive. L'ho fatta. L'ho fatta passo passo. Certo. Con la testa di più. Ma forse anche le due. Non ti stacca. Non ti stacca. Ti sei paurito. Non ti stacca. Ci vuole anestesia. Con la testa e via. Con la cute. No. È lì. Perché un cliente lo vuole accogliere. Perché andate all'ospedale ci sia un servizio. Certo. Credi molto. Perché faceva le andirette. Era una cosa incredibile. Bene. Allora ragazzi. Io vi saluto. Bene. Grazie. Allora ci vediamo al prossimo live. Continuate a seguire Frank The Doctor. Per agosto. Saluto chi ci odia. Saluto. 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 Ragazzi. Telefonate. Lasciali il numero dove devono chiamare. Se vogliono avere un'informazione. Saluto chi ci odia. E tutti quanti. Ciao. Ma noi vogliamo parlare a tu. Certo. E non parliamo. Noi. Non siamo invidiosi. No. Un saluto agli amici di Instagram. Ciao. Hola. Hola. Buona serata. Un saluto agli amici di Facebook. E che è matatore. Ciao. Il miglior canale. Il miglior canale. Il miglior canale. Il miglior canale per la vostra. Problemi di capelli. 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 Sempre capelli. Non so perché anche il benessere. Yes. And that. Ciao alla prossima. Ciao. Ciao.